Buongiorno, eccoci arrivati al quinto video incontro di Maledetta Primavera, organizzati dalla Biblioteca Universitaria di Genova e questa seconda parte della quarta puntata, La Primavera, Petrarca e i colpi di fulmini, abbiamo ascoltato il dispiegarsi irresistibile nella prima parte della passione animale in primavera nei versi potenti del mite Virgilio delle Georgiche. Un libro amatissimo da Petrarca che era compreso nel suo manoscritto, nel suo codice Virgilio Ambrosiano custodito alla Biblioteca Ambrosiana di Milano. Forse di quella perdita di ogni freno che Virgilio descrive, il colpo di fulmine è quel che ci rimane, la perdita della ragione per l'innamoramento. Uno studio statunitense condotto dall'Università di Siracusa e intitolato The Neo-Imaging of Love ha determinato che basta un quinto di secondo, dodici centesimi di secondo, per sentirsi già innamorati di una persona. Il cervello si innamora per primo e poi in questa sensazione, come si dice, arriva al cuore. Ovvero cosa succede? Che nel cervello umano si attivano ben dodici aree diverse, capace di rilasciare dopamina, ossitocina, adrenalina, questo mix di sostanze che permettono di percepire due sensazioni famigerate come il tuffo al cuore, le farfalle nello stomaco. Purtroppo si è anche scoperto che statisticamente solo l'11% delle coppie che si sono formate grazie al colpo di fulmine è riuscita poi successivamente a consolidare un rapporto stabile e duraturo. Questa affermazione risulta quasi beffarda in questo contesto che dedichiamo a Petrarca, che per tutta la vita amò la stessa donna e da questa non fu riamato. Un colpo di fulmine senza ritorno, pericolosissimo per la salute mentale dell'innamorato, che effettivamente scrisse 366 componimenti che compongono appunto il canzoniere per tutta la vita. Stiamo un po' scherzando, mettiamola anche un po' sullo scherzo, visto quel che stiamo vivendo, questo distanziamento sociale. Però effettivamente per parlare di distanziamento sociale, Petrarca è l'ideale, è un invito veramente con tutto il cuore alla lettura, perché è scisso per tutta la vita a Petrarca fra quello che è la vita pubblica, la socialità, anche l'amore per il successo, per la gloria e l'amore per la riflessione e per la solitudine. Ricordiamo che dopo essere stato incoronato poeta nel 1341, subito dopo vive una crisi esistenziale, religiosa anche, che lo porta a scrivere tra il 1942 e il 1943, il Secretum, ovvero il De Secreto Conflictu Curarum Mearum, il segreto conflitto dei miei affanni. E poco dopo, nel 1346, il De Vita Solitaria, poi rivisto nel 1953. E effettivamente va la pena di scoprire Petrarca in questo periodo. Ma torniamo a quell'incontro, a quel colpo di fulmine che travolse così il poeta, che fu così determinante per tutta la sua vita, del Venerdì Santo del 1327, che ha coinciso con questo Venerdì Santo, con la nostra quarta puntata, con la prima parte proprio di questa nostra iniziativa. Una pittrice di stile pre-Raffaelita, meno nota di Edward Bar Jones e di Dante Gabriel Rossetti, raffigura come segue il primo incontro di Laura e Petrarca. Ecco, il primo incontro di Laura e Petrarca nel 1889 viene dipinto da Marie Eufrosine Spartari, un inglese di origine greca, nata a Londra nel 1844, una pre-Raffaelita un po' dimenticata, che sposò poi un pittore statunitense, William Jones Stillman, e all'epoca probabilmente generò molti colpi di fulmine, per la sua bellezza che fece esclamare al poeta al German Swinburne, lei è così bella che voglio sedermi e piangere. E nell'ambiente insieme alle due cugine, altrettanto belle, erano chiamate le tre grazie. Lei era specializzata in scene tratte da opere letterali di Shakespeare, Boccaccio, Petrarca e soprattutto Dante. Ed eccola in un ritratto del 1869, opera di Dante Gabriel Rossetti. E poi in un'Armida in cui lei stessa si raffigura una rosa nel giardino di Armida del 1894. Poi cogliamo l'occasione per fare un omaggio all'amicizia fraterna fra Petrarca e Boccaccio, con il dipinto di Maria Spartari intitolato La canzone di Fiammetta del 1879. È la lieta compagnia del Decameron, ci sono sette ragazze e tre ragazzi, dieci giovani che cercano di sfuggire all'epidemia della peste nera in corso nel 1348 a Firenze, come tutti sappiamo insomma, trascorrendo fuori città 14 giorni, come la nostra quarantena da coronavirus, con dieci giornate di racconti, in tutto 100 racconti. E l'introduzione del Decameron di Boccaccio a tratti purtroppo ricorda molto da vicino certi tristi accadimenti dei giorni nostri. Anche Petrarca nel 1348 dovette fuggire dalla peste nera che in quegli anni infuriava in Europa, e lo rievoca con grande dolore nell'Egloga IX e nella lettera in versi ad Seipsum. E il 19 maggio del 1348, come nota a margine del suo Virgilio Ambrosiano, quando si trovava ancora a Parma, apprende dell'amico Socrate, ovvero il musico fiammingo Ludwig van Kempen, della morte di Laura, avvenuta il 6 aprile a 21 anni esatti da quando l'aveva conosciuta, il 6 aprile del 1327. Pochi mesi più tardi muore di peste anche il cardinale Giacomo Colonna, presso cui aveva lavorato per tanti anni a Lombezzi, in Guascogna, dove era la sua sede episcopale. Li ricorderà entrambi, Colonna e Laura, nell'incipit del sonetto 269, trasformandoli in emblemi del paesaggio, come in un moderno rebus. Rotta è l'alta Colonna e il verde Lauro che faceva l'ombra al mio stanco pensiero. I sonetti in morte di Laura iniziano poco prima, con il sonetto 267. Oimè il bel viso, oimè il suo aveguardo, oimè il leggiadro portamento altero. Ma torniamo al sonetto 90, che dobbiamo pur leggere. Erano i capei d'oro a Laura sparsi, che mille dolci nodi li avolgea, e il vago lume oltremisura ardea di cui begli occhi corne sonsi scarsi, e il viso di pietosi color farsi, non so se vero o falso, mi parea. Io che l'esca amorosa al petto avea, qual meraviglia se di subito arsi. Non era l'andarsuo cosa mortale, ma d'angelica forma, e le parole suonavano altro che pur voce umana. Uno spirto celeste, un vivo sole, fu quel che io vidi, e se non fosse ortale, piaga per allentar d'arco un'un sana. Nel dipinto di Maria e Spartaro, l'incontro è un rapimento, nella chiesa di Avignone, di Santa Chiara. Si guardano e il poeta va in stato di ipnosi, lo stato di ipnosi da colpo di fulmine. Come dice, che è tipico del colpo di fulmine, il grande signologo francese Roland Barthes, in i frammenti di un discorso amoroso. È un saggio del 77, per certi versi sperimentali, che affronta appunto con una serie di figure, le citazioni, in maniera assolutamente poetica e saggistica insieme, un tema come il discorso amoroso. Con una premessa. Il discorso amoroso, dice Barthes, è oggi di un'estrema solitudine. Quando un discorso viene dalla sua propria forza, trascinata in questo modo nella deriva dell'inattuale, espulso da ogni forma di gregarietà, non gli resta altro che essere il luogo, non importa quanto esiguo di un'affermazione. Vabbè, è un momento negli anni 70 in cui evidentemente il discorso amoroso non è così all'ordine del giorno. Ma qui sembra veramente alludere al canzoniere di Petrarca, Barthes. Ricordiamo, il poeta aveva intitolato Rerum vulgarium fragmenta, il suo canzoniere. Fragmenta e Barthes intitola Frammenti, in un discorso amoroso. Non lo cita mai direttamente Petrarca, ma non cita neanche un autore medievale. Però quella presentazione brevissima che abbiamo letto non può non rinviare anche a Petrarca. Barthes parla del colpo di fulmine nella voce rapito in estasi, perché è concepito un po' come un dizionario, di figure amorose. I frammenti di Barthes. Rapito in estasi, ovvero del rapimento. Osserva che a differenza del rapitore del mito antico, attivo, che ricorre e coglie la sua preda, il rato delle Sabine, insomma, il rapitore moderno, quello dell'amore e passione, è invece il contrario. Rimane fermo, immobile, l'oggetto del rapimento e diventa il soggetto dell'amore, e quindi colui che soffre. Cristianamente, laddove c'è il dolore, c'è il soggetto e più la ferita è aperta al centro del corpo, del cuore, più il soggetto diventa soggetto. Tale la ferita d'amore, una piaga radicale alle radici dell'essere che non riesce a richiudersi, continua Barthes e sembra il finale del sonetto 90 che abbiamo letto. Barthes afferma che il colpo di fulmine è un'ipnosi. Io sono affascinato da un'immagine, ma sono predisposto per questa affascinazione, perché l'episodio ipnotico è di solito preceduto da uno stato crepuscolare, uno stato di attesa, di meravigliosa serenità. E qui Barthes cita il Werther di Goethe. Quando Werther scopre Carlotta, lei sta tagliando delle fette di pane. Ci si innamora prima di tutto di un quadro, amiamo un quadro. Si alza al sipario e appare il quadro, dice Barthes. Siamo quindi come degli spettatori che sono pronti ad essere affascinati. E quando Petrarca parla dell'esca del suo cuore pronta, che attende quindi il raggio ardente, la situazione è simile. Attende la vista dell'altro che l'incendi e che si apra la ferita che mai si sanerà. Petrarca riesce in qualcosa di miracoloso in questo sonetto, perché l'aura è sia quella del colpo di fulmine, sia quella del presente. E effettivamente Barthes dice che il colpo di fulmine si dice sempre a passato remoto, ma che si definisce come un immediato anteriore. Cioè quindi qualcosa che è subito vicino a noi, immediato, ma passato. E questo viene reso molto bene dai verbi in realtà all'imperfetto del sonetto 90. Il passato remoto è riservato soltanto al fuoco, alla fiamma che scocca. Nel sonetto 90 il colpo di fulmine chiaramente non può che vivere all'istante di un larve, è tutto molto preciso. Passato remoto per il fuoco, la descrizione dell'aura del passato in tempo imperfetto era. E poi il presente, la ferita che non si sana. Ci salutiamo con il contributo di due signore della poesia a Genova, che vivono la poesia forse in modo diverso ma non meno appassionato, Patrizia Ercole e Giovanna Olivari. Patrizia Ercole, attrice e regista attivissima in campo teatral letterario, spesso in collaborazione con il musicista Andrea Basevi, con il poeta Roberto Piumini. Ci regala la lettura del colpo di fulmine secondo Angelo Poliziano, la cui vita occupa la seconda metà del Quattrocento. Da parte sua Giovanna Olivari è una funambolica poeta genovese con un attivo molte pubblicazioni e racconta un suo colpo di fulmine assai recente in una poesia corredata da una foto di Mario Pellegrini e il mano di Marciana Marina, con le cui immagini ha pubblicato Giovanna nel 2018, la raccolta allo specchio del mare. Alla prossima puntata quindi di Maledetta Primavera, la sesta puntata di venerdì 17 aprile è dedicata alla primavera dei giardini. A presto. Il primo giorno che ti vidi, mai, disposi d'amarti fedelmente. Se tu vai io vo, sto se tu stai, e quel che fai tu fo similmente. Io sono contento se tu letizia hai, e se tu hai mal ne sono dolente. Se piangi piango, e se tu ridi i rido. È questo che il comanda Amor Cupido. Non riesco più a pettinarmi. Eppure corti e lisci sono i miei capelli. Sei entrato nei miei pensieri all'improvviso un giorno di luglio, venuto dal mio passato senza memoria. Nei miei pensieri, con semplicità, ti sei infilato, e naturalezza. Mai presa. Anch'io, palamiti, ho calato, eretti e nasse. Non le ho salpate. Trincee ho alzato, e messo paletti, vestita di ruvida calce. Non riesco più a pettinarmi. Impigliato nei miei capelli, il pensiero di te non vola via, nemmeno oggi, che è giornata di gran forte vento.